Inizio con la domanda di Rita. Buonasera carissimi, seguo davvero con molto interesse fratello Giuseppe, che Dio lo benedica davvero. Volevo fare una domanda se era possibile. Io ho sentito la voce del Signore nel 2017 chiedermi di offrirmi anima vittima e ho accettato assolutamente. Da quel giorno poi sono diventata invalida al 80%. Fratello Giuseppe, cosa pensi di questa esperienza e cosa dovrebbe Rita fare? Accettare questa condizione perché è lei stessa che lo ha chiesto al Signore o cercare di uscirne da questa invalidità di essere guarita? Cosa pensi? Ma insomma, questa qui cosa ha fatto questa dolce sorella? Ho sentito la voce del Signore nel 2017 che il Signore gli avrebbe chiesto di offrirsi come anima vittima. Sì. E questa qui è un'altra scoperta che è una nuova trovata, questa qui, mai sentito prima. E che l'ha accettato assolutamente. Guarda, comincia a dargli una scrittura nel nome di Gesù. Primo Giovanni 4. Sì. Quando ci arrivi, dimmi. Quasi. Sì, è arrivata. Ok. Verso 1 e 2. Primo Giovanni 4, 1 e 2. Carissimi, non crediate a ogni spirito, ma provate gli spiriti per sapere se sono da Dio, perché molti falsi profeti sono sorti nel mondo. Da questo conoscete lo spirito di Dio. Ogni spirito il quale riconosce pubblicamente che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio. Verso 3. Primo, no, no. Primo Giovanni. Primo Giovanni 4, 1 e 2. Ecco, riconoscere Gesù non è sufficientemente dire sì. Bisogna fare quello che gli dice. Allora lei per andare, quando ha sentito questa voce, devi essere un'anima vittima, lei doveva andare da Gesù. E come si va da Gesù? Con il bicicletto, con la macchina? Com'è che si va? Si va alla parola. E perché lei crede che è Gesù che le ha parlato? E beh, allora vai alla parola e controlli. Dove dici nella parola che devi essere un'anima vittima? Quando la vittima è Cristo? Sulla croce. Quindi questo messaggio è falso. Cosa significa anima vittima? Cioè, victim. Sì, però in che senso? Vuol dire uno che soffre qualcosa, una sofferenza. Ma per cosa? Una morte. E lei chiedeva, cos'è che chiedeva il Signore? Niente, qua non lo dice. Però vuol dire che praticamente questa voce gli diceva di fare quello che Gesù aveva già fatto. Soffrire per altri? Soffrire per quello che voleva lei, non lo so per cosa voleva soffrire. Però è sempre il diavolo che cerca di sostituire Gesù con le sue bugie. Quindi sostituire Gesù, invece di pregare Gesù, bisogna venerare un santo. Venerare una santa. Invece di pregare Gesù si prega un santo. Si prega una santa. Cioè, il diavolo cerca sempre di sostituire Gesù. Quello che dà fastidio al diavolo non sei tu, non sono io. Non è un santo, non è una santa. È Gesù Cristo. I diavoli non tremano davanti al nome di un santo o una santa. Solo davanti al nome di Gesù Cristo. Quindi il diavolo è sempre lì cercare di sostituire il nome di Gesù Cristo con questo santo o quell'altra santa. Per questo che dice Matteo 24, 24, ci saranno falsi Cristi e falsi profeti. Oggi proliferano come i funghi, i santi di qua e i santi di là. Per questo che la Chiesa è sempre più a catafascio. Con più mettono la Chiesa nelle mani di un santo o una santa e con più va a catafascio. Dobbiamo andare da Gesù Cristo. Però questi pelandroni di Chiesa non glielo insegnano le pecorelle come si va da Gesù. Si va, studia la parola, memorizza la parola, predica la parola, apri il cuore, chiedi a Gesù Cristo di salvarti. E quello vuol dire Gesù Cristo, non il mio santo o la tua santa. Davanti a Dio non ci sono santi che tengano. Non ci sono idoli, non c'è niente. Esodo 20, dall'1 al 5, dice Non avrò altri dei davanti a me, non ti fare immagini che sono sulla terra, sotto la terra, nel cielo e nell'acqua. Niente, neanche immagini del cielo. E questi qui hanno capito tutto il contrario. Stanno facendo esattamente il contrario. Perché egli lo dice il diavolo nel nome di Dio, nel nome di Gesù. Allora, questa è la vittima. Cioè, praticamente, soffrire per quello che Gesù ha già sofferto. Quindi, se io devo soffrire per ricevere da Dio, soffrire, devo fare la vittima, ok? Allora Gesù cosa è venuto a fare? False religioni. Dice che le anime vittime, dice qui su internet, che sono le anime che seguono Cristo sulla via del Calvario e salgono con Cristo in croce. Buonanotte al diavolo. Veramente, mandare al diavolo. Quindi, salgono sulla croce con Cristo per cosa? Per mostrare l'amore, non lo so. Cioè, per soffrire con Cristo, dice? Per soffrire con Cristo. Ma senti... Fratello Giuseppe, stai calmo, per cortesia. E sto cercando di stare calmo. Il mio angelo Cristo dice, stai calmo. E sto calmo, calmissimo, però... Ma lo vede a capire che Gesù ha sofferto per noi e noi non dobbiamo soffrire. Ha sofferto a nostro posto. Non vuol dire che dobbiamo soffrire anche noi. Sono bugie di Satana, Lucifero, il diavolaccio, satanasso. E se Dio ti dice, Dio stesso, che devi diventare anima vittima, cosa fai? Ma Dio non può mai contraddire la sua parola nel Vangelo. Lo Spirito Santo vi guiderà in tutto quello che vi ho detto. Lo Spirito Santo può solo guidare e guiderà solo alla parola di Gesù. Ogni parola che Gesù ha detto, ogni parola è un fondamento. E devi camminare sulla pietra, non sulla sabbia. Da fondamento a fondamento attraverso il fiume, attraverserai il fiume, la fiumana delle bugie del diavolo. che in Apocalisse 12 dice che il diavolo lancia la fiumana per far annegare la Chiesa nel nome di Gesù. Quindi io, questa amata sorella, voglio dirvi che questa storia, questa voce che ha sentito nel nome di Gesù era un falso Gesù. È un inganno, è il motivo per cui il nemico ha avuto la porta aperta per renderti quanto? l'80% invalida? È logico, hai accettato la bugia e questa bugia ti ha reso all'80%. L'hai accettato all'80%, meno male che non è stata al 100%, se no, sei già morto a questo punto. Ora, per cortesia, volgiti a Gesù e con un po' di fede sarai guarita. Ce l'hai in lista oggi? Sì. È in lista? Sì. Rita, ricordiamoci di lei oggi. E allora, fratelli, io voglio dire a tutti quanti, state attenti, non giocate con gli spiriti, con malattie, maledizioni, compreso contro voi stessi. D'accordo? Andiamo per il primo corinzi 6, per favore. Non dovete soffrire per i vostri peccati. Sono la religione del diavolo che dicono questo. La religione del Vangelo dice Cristo ha sofferto, non devi soffrire. E perché sono malato e soffro? E perché è il diavolo che ti fa soffrire e ti manda la malattia? Non è Gesù, Gesù ti guarisce. Dov'è che nel Vangelo... Ci sono queste religioni baldrache, baldrache queste religioni, che dicono che se devi soffrire per... Ci sono delle citazioni di santi, santi, che hanno detto che devi soffrire. Ma quei santi erano uomini come noi che erano fuori binario come noi. Non è vero che devi soffrire per i tuoi peccati. E ci ha sofferto Gesù. Quando mai? Quando è che Gesù è andato in giro nel Vangelo? Fammi vedere dov'è che dice che è andato in giro a distribuire sofferenze. E andare dalla gente sana a dire toh, soffri un po' per essere purificato. A te ti do un bel cancro. E a quell'altro gli do una bella trombosi. A quell'altro me gli diamo... Lo facciamo, che so, il poliomeritico. Perché li amo così tanto? Questo è il Vangelo falso. Ce l'hai il primo corinzi 6? Sì. Vai al 19, ora che sia. E anche 20. Primo corinzi 6, 19. Non sapete che il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi, poiché siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Primo corinzi 6, 19 e 20. Comprati a caro prezzo, comprati, non apparteniamo a noi stessi, e allora siamo diventati il corpo di Cristo. Il corpo di Cristo è ammalato, ha cioccato, e c'è il cancro. No, Cristo non c'è niente di tutto questo. E perché io ce li ho che sono parte del corpo? Perché io sono un fesso. Ecco perché ce l'ho. Che se fossi più fermo nella fede, direi a questo mondo, a questo mondo, spostati e buttati nell'acqua, e mi obbedirebbe nel nome di Gesù Cristo a me. Dimmi. Mi ricordo, perché sto pensando che Rita ha fatto questa scelta, per tanto amore che lei ha per Gesù, e vuole soffrire con lui, salire sulla croce con lui. E il diavolo usa anche questo amore. E mi ricordo che una volta stavamo evangelizzando un gruppo di studenti, e tutti erano aperti e dolci, e hanno ricevuto la salvezza. Però c'era uno, che tanto amava Gesù, e diceva, ma no, Gesù ha dovuto soffrire tanto sulla croce per tutta l'umanità, almeno per me. Io non voglio farlo soffrire. E' quello che portavo le patate sul careto. Io non voglio che lui paga anche per i miei peccati, li pago io, anche se devo soffrire, morire, perché lo amo tanto, e così tolgo un po' dal suo dolore. Non deve soffrire troppo. E quella è la via dell'inferno. Un po' meno di sofferenze su Gesù, se io non gli do i miei peccati. E noi abbiamo trattato di convincerlo, ma senti, tu non puoi mai essere salvato così, tu non andrai nel cielo così. E lui non voleva sentire, se no io lo amo tanto, non voglio dargli i miei peccati. Poveraccio. E per tanto amore, non possono salvarsi. E' strano, no? La storia delle patate. Quando c'è l'autostop, un sacco di patate così pesante. Le sciefermono con il careto, e con il cavallo, salta sopra. Sì, grazie signore. E dopo che andava, cloc, 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 il cavallo andava, e questo si gira e vede che in questo qui c'è ancora le patate a spalla. Dice, ma cosa fa con le patate a spalla? Dice, eh signore, lei è stata così gentile, mi ha dato un passaggio sul suo careto. Almeno le patate le porto io. E questi qui stanno facendo lo stesso. Vogliamo svegliarci per cortesia. Sì. State annullando il sacrificio di Cristo sulla croce. Allora, cerchiamo di glorificare Dio nel nostro corpo. Non maledirlo. Non maledire il nostro corpo. Beneditelo. È il corpo di Cristo. Cosa volete vittimizzarvi? Siete... La voce che sarà laudita non era del Signore, era del diavolo, era un suo inganno. Ma questo è tipico nelle religioni. Sono lì adorare di qua, venerare di là. Tu che santo veneri, io venero il santo pinca pallino, e tu io pinca pallona. Ah, sì? Ah, sì, un pochettino che è Gesù, certo, certo, sì, sì. Dieci preghiere, la santarellina, falsa, e una al Signore. Vogliamo svegliarci. Guarda. Ascoltiamo la vera voce per cortesia. Comunque nel tuo caso la voce che hai sentito per essere quella di Cristo avrei dovuto citarti scritture. Come faccio a sapere che quando un'apparizione viene da Dio e dal diavolo? Perché non ci sono scritture. Io a volte mi capita che sbattano internet qualche falso santo, falsa santa, con tutte queste profezie che danno. Non c'è neanche una scrittura. Sono tutte imitazioni volgari. Uè, ma predicano bene, eh? Il mondo sta per finire, la cattiveria, i peccati dell'umanità. Ma questo lo sanno anche gli imbecilli. Scusa che il mondo sta per finire perché la popolazione del mondo è malvagia. Tu devi dire alle pecore cosa devono fare, non per quale motivo andranno all'inferno. Internet è pieno di gente che ti dice tutti i problemi, scoprono i segreti di quella banca, i segreti dell'organizzazione che sta inquinando il mondo. I segreti, che ce ne facciamo tutti questi, di conoscere le profondità dei miei sfatti di Satana. Mi vuoi insegnare come uscire per cortesia? Oh! Tutto a profetizzare sul male del mondo. E quando il Signore mi ha dato la profezia, il Signore mi dà sempre a me e ad altri meglio di me, la soluzione. Cosa fare? Cos'è che bisogna fare? E questo è il vero profeta e mi auguro che noi siamo tra questi. Sì, parlare del quello che sto combinando il diavolo, ma il Signore cosa fa? Niente. E a Rimini che pesca? E no, caro. Il Signore non parla senza dare soluzioni. Legge l'Apocalisse due, tre, sette messaggi a sette chiese, alcune sgangherate, altre mezze morte, però dà sempre la soluzione. Cosa ce ne facciamo di una santa statuaria che ci dice perché andremo all'inferno? Ma togliti di piedi, tu sei una falsa santa, non sei una... La vera santa dà soluzioni. Nel nome di Gesù mi rende triste vedere milioni di pecore a seguire queste false apparizioni. insomma, se un'apparizione, una profezia, un predicatore, io stesso, chiunque, un angelo del cielo vi do un messaggio senza dare scritture, senza dare la soluzione, soluzione, la risposta è del diavolo. Non ascoltate perché il diavolo ci parla in continuazione. Dobbiamo crearci uno sbarramento di Spirito Santo inviato da Dio e di scritture sì che quando il diavolo lancia una bugia nella nostra mente è una bugia costruita a sembrare verità viene bloccata sulla porta dalle scritture che abbiamo letto, studiato, amato, memorizzato, ripassato e cose che tu sorellina non hai fatto e sei rimasta ingannata. Ma gloria a Dio adesso se tu vuoi ti ravvedi, ti penti, chiedi scusa al Signore e sei a posto e con un po' di fede sei guarita. Perché? Perché Gesù ti ama. Gesù non ti vuole vittima e paralizzata ma stiamo scherzando. Angelina, mi fermo. Sì, quello che ho letto quando riapro questa pagina ho letto che le anime si offrono ad essere vittime perché in questo mondo diventano in questo modo diventano figli e spose di Cristo. Quindi per diventare sposa di Cristo che uno desidera tantissimo crede che deve fare l'anima vittima. Che roba da amarti. Roba da amarti. Vai in una fabbrica in una compagnia in un ufficio e dire io vorrei la paga settimanale. Sì, e qual è il tuo lavoro? Io farò la vittima. E cos'è la vittima? Io non mangio, non bevo, non dormo, mi torturo, mi frusto. Vittima. Perché è così? Perché è così? Ha frustato Gesù, gli hanno sputato in faccia. Per favore mi sputi in faccia. E poi l'hanno messo in croce. Per favore mi devo crucifiggere quattro chiodi. Grazie. E dopo vengo a prendere lo stipendio settimanale. Quello dice lei è impazzito, chiamiamo l'ambulanza, quale ospedale mentale vuole andare lei? E così sono certe religioni. Facendo la vittima tu vai in cielo. Ma allora cosa è venuto a fare Gesù qua sul Calvario? E non hai bisogno di Gesù. scusa, se la vittima sei tu. Angela, per condizioni prendi il microfono. No, ma questo è interessante. Quindi si può diventare sposa, cara Rita. Anche io lo desidero, ma per diventarne vado alle scritture per vedere cosa desidera Dio, come posso accontentarlo, farlo felice, ubbidire. E nella parola non parla di anime vittime. Parla di ubbidienza al Vangelo, evangelizzare, portare frutto. Quello sì, e tante altre cose che puoi studiare anche nel corso biblico se lo vuoi ricevere. Guarda, io parlo ai milioni delle pecorelle imprigionate in queste chiese carceri. Cioè, le chiese sono il più grande sistema penitenziario carcerario del mondo. Ci sono milioni di chiese in giro, ognuno ha un carcere. Quali sono? Tutte quelle che non ti dicono che hai bisogno solo di Gesù. Giovanni 6, 47, cosa dice? Chi crede in me ha? Vita eterna. Non dice chi è vittima. Non dice chi soffre. Chi soffre in croce con me ma dove dovete pescare questo Vangelo satanico? Va bene? Uscite da queste carceri religiosi, seguite il Vangelo, seguite Gesù. È così facile Matteo 18, 20 dove due sono riuniti, due sono riuniti, io sono lì nel mezzo. Va bene? Gesù, ovunque ci sono due, lì c'è Gesù, due credenti, eh? Giovanni 16, 1, 2, 3, dice vi caceranno dalle sinagoghe o chiese. L'ora viene che chiunque vi uccide, magari uccide viene lo spirito, con le bugie, oggi i chiodi e i martelli sono le bugie. Chiunque vi uccide che dà servizio a Dio, tribolazione sarà anche fisica, ma fatevi coraggio, dice la fine di Giovanni 16, io ho vinto il mondo, avrete tribolazione nel mondo ma io ho vinto il mondo e non parteciperemo alle vittorie in Cristo facendo la vittima. Ma allora guarda, falla completamente, prendi un pezzo, due pezzi di legno e dei chiodi e divertiti, quanti chiodi vuoi? Bastano tre? Angelina, ti prego, prendi la parola. Dio ci aiuti, Amen, sì. Dio ci aiuti,